Buonasera, nuovo appuntamento col TRG Plus, siamo a Foligno, stasera parliamo di una nuova iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno per il Sociale perché grazie alla Fondazione infatti Foligno e la Caritas di Foligno hanno a disposizione un nuovo supporto logistico ma soprattutto operativo, nuovi magazzini viveri, si chiude la maxi operazione Solidarietà che era cominciata a dicembre con l'inaugurazione dell'emporio solidale, di questo abbiamo parlato e con il direttore Folignate della Caritas e con il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Il servizio. Con l'inaugurazione dei nuovi magazzini viveri della Caritas di Ocesana di Foligno si è chiusa ad ottobre una serie di progetti rivolti alle famiglie bisognose del territorio. Tre anni fa l'avvio degli orti solidali, lo scorso dicembre in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno si dava invece vita all'emporio della solidarietà ed oggi la creazione degli spazi dove raccogliere, custodire prodotti da distribuire alle famiglie tramite i vari servizi messi a disposizione dalla Caritas diocesana e le Caritas parrocchiali. A tagliare il nastro nei locali in via Flaminia Vecchia accanto alla chiesa di Santa Maria in Campis, Don Gianni Nizi, vicario della diocesi di Foligno che ha benedetto i locali e portato il saluto del Vescovo Monsignor Gualtiero Sigismondi insieme al direttore della Caritas Mauro Masciotti, il sindaco di Foligno Nando Mismetti e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno Alberto Cianetti. Proprio grazie al contributo della Fondazione è stato possibile ristrutturare questi spazi e trasformarli in un luogo di carità dove oltre a conservare gli alimenti destinati all'emporio e alle parrocchie sarà possibile grazie ad un laboratorio creato ad hoc ricevere i prodotti provenienti dagli orti solidali da inserire poi all'interno dell'emporio. Oggi si inaugura il magazzino dei viveri della Caritas un ulteriore tassello dell'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno in questo settore, quello della cura delle povertà? Sì, risale questa a una convenzione che sottoscrivemmo già a dicembre dell'anno scorso tra noi Caritas e Comune e mettemmo a disposizione una consistente somma proprio per garantire il sostentamento delle famiglie indigenti e avevano necessità anche di avere degli spazi attrezzati per mantenere le derrate e questo mi pare che oggi inauguriamo un sito veramente molto importante perché non è solo lo stoccaggio di materie prime non deteriorabili ma anche la lavorazione di quelle deteriorabili tipo per esempio le verdure ed è una cosa veramente molto importante. Questo è il completamento dell'accordo che facemmo alcuni mesi fa. Purtroppo questa della cura dell'indigenza è sempre il settore preponderante nell'attività delle fondazioni. Sì, purtroppo viviamo questo momento, io già l'ho dichiarato, la fondazione ha messo come primo obiettivo vedere come contribuire a risolvere questo problema che è veramente molto molto sentito e per quanto ne sappia non è che ci sono ancora prospettive molto molto belle. Faremo comunque come sempre la nostra parte. Una macchina completa, quella a disposizione della Caritas che parte dalla terra e dai frutti che può donare e arriva fino alla distribuzione diretta alle famiglie che versano in situazioni di disagio. Un risultato reso possibile grazie al contributo di tutti e che come spiegato dal direttore Caritas Masciotti per essere durevole avrà ancora bisogno della solidarietà di tutti. L'inaugurazione di oggi è un po' la quadratura del cerchio di un lavoro che è iniziato tre anni fa, iniziato con l'apertura degli orti solidali, la produzione propria di ortaggi e frutta che ci ha portato con l'aiuto della fondazione all'apertura, lo scorso Natale dell'Emporio e oggi con l'apertura di questi laboratori e magazzini riusciamo a avere una filiera completa dalla produzione degli ortaggi fino alla distribuzione delle famiglie bisognose. Servono sempre più fondi, servono sempre più spazio per un'attività che purtroppo dobbiamo riconoscere essere crescente in questo ambito. Sì, strutturalmente da oggi siamo pronti a portare avanti il lavoro in maniera completa. Quello che ora serve è la maggior solidarietà da parte delle aziende che possono aiutarci nella fornitura di prodotti agricoli, solidarietà da parte della comunità, delle nostre parrocchie, della nostra città perché questo deve essere il frutto del lavoro di tutti. La Caritas mette a disposizione dei propri servizi per una catena di solidarietà? Senz'altro. Da soli non avrebbe senso fare nulla. Quello che chiediamo è proprio che questa catena diventi sempre più forte. Fare squadra è l'unica ricetta possibile. Questo è il commento del sindaco Nandomismetti che ha aggiunto oggi l'elemento più critico da combattere all'indifferenza. Il mondo di oggi è sempre più caratterizzato dall'individualismo e invece ognuno di noi dovrebbe caricarsi di un po' di fatica perché insieme si possono risolvere i problemi. Non a caso la scelta di inaugurare i nuovi magazzini viveri della Caritas nel giorno della giornata mondiale dell'alimentazione, un segno che ha voluto essere uno stimolo alla riflessione e alla lotta contro l'indifferenza. Grazie. Grazie.